Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla terza fase della puntata numero 6 del club della scommessa. Dovevano pronosticare con un commento 4 partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A e Serie B come da regolamento, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 22 al lunedì 25 febbraio. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le 14 di oggi, oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui, sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla terza fase di questo gioco del club della scommessa numero 6. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Intanto ho preparato l'elenco verificando la quota sul sito www.scommettendo.it. Il primo partecipante è Domenico Cardone, che ha pronosticato Atletico Madrid 1 a 1,58, Barla in Tottenham 2 a 1,68, Siviglia-Barcellona 2 a 1,95 e Lipsia-Offenheim 1 a 1,85. Il secondo partecipante è Carlo Rizzi, che ha pronosticato Mainz-Shalk 04 over a 1,85, Parma-Napoli over a 1,83, Borussia Dortmund Leverkusen over a 1,45 e Frosinone-Roma over a 1,47. Andiamo avanti. Poi abbiamo Giovanni Di Corato, che ha pronosticato Verona-Serenitana 1 a 1,90, Pescara-Padova 1 a 1,85, Foggia-Benevento 1 a 2,80, Ghetà-Ferraio-Vallecano 1 a 1,75. Poi abbiamo Andrea Campese, che ha pronosticato Bologna-Juventus 2 a 1,48, Fiorentina-Inter x2 over a 1,5 a 1,81, Torino-Atalanta gol a 1,72, Levante-Real Madrid 2 a 1,57. Infine abbiamo Cosimo Di Viccaro, Milan-Empoli over a 1,5 casa a 1,47, Sampdoria-Cagliene 1x over a 1,5 a 1,49, Arsenal-Southampton 1 a 1,46 e infine Brescia-Crotone 1x over a 1,5 a 1,47. Allora, le partite sono 4, 8, 12, 16, 20 partite e nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per i partecipanti, per i 5 partecipanti sarà un notebook 4GB di RAM e 500GB di hard disk. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!